Oggi non esistono prove d'appello, oggi non c'è una seconda occasione, se vuoi continuare a sognare hai una sola possibilità, questa è già la partita della vita Kick off, è iniziata Frosinone l'Aquila, andare con il mancino, pallone sul secondo palo, che stacco da parte di Scrugli Ancora Viola, Viola entra in area, viene messo giù, c'è fallo, calcio di punizione in favore del Frosinone Va Gunker con il destro, Frosinone in vantaggio, il call di Robert Gunker, 1-0 per il Frosinone Ha piegato le mani a testa, poi ha sbattuto i pugni sul cuore, perché lui è austriaco, ma ormai il cuore è qui Curiale va da solo, ancora Curiale si accetta, Curiale caccia Falla alta di un soffio, sono a tiro, Viola in area di rigore, ancora Viola, Viola finisce giù, calcio di rigore Va Curiale, con il destro, e il Frosinone la doppia, goal in goal, numero 12, il campionato di Davis Curiale Carmini, Carmini va dentro per Curiale, solo dentro a potere Curiale, traversa, la palla ancora buona, Paganini 3-0 Frosinone, per Luca Paganini È finita il Matusa, il Frosinone ha battuto l'Aquila, gara dominata, gara stravinta dai giallazzurri Andiamo a Perugia, saranno sette giorni di passione veramente per lui I love what I've described But then again I don't need no